E' sta canzuna e pissarina, ca' porta aperta, si rematina, avventate stani dei aranni, i picciritti, semmo importanti, gira l'Italia e critica, la nostra vita futura avrà. Ma sentite, sentite sta storia che vi voglio raccontare, di una signora che la sa, tranquillità e comodità, e si misa a insegnare libertà. Libertà dalle cose materiali si sa, ma soprattutto libertà dell'ignoranza e rassegnazione, ca' portano in felicità. I figli a scuola sanno ammannare, se no, prima o dopo, ho conto a nappareare. Mi fermo qua. Ricordo di Sarina che diceva sempre io qui mi sento al mio posto. La prima volta che andai nel quartiere, mi ricordo che con la macchina girai 4 o 5 volte, cercando un centro di aiuto a ragazzi di strada. Ma alla fine mi accorsi e capì che non c'era nessun centro, ma una casa tra le altre e una donna tra le altre. ecco, questo è quello che tengo per me, quello che di più caro mi ha lasciato Sarina, vivere la ricerca della libertà con me stesso e con gli altri, senza etichetta, stando però insieme e aiutandoci. e saluto.